Benvenuti nel mondo degli orologi Welder. Welder Watches è un marchio di orologi di lusso creato dal designer italiano Italo Fontana, noto per aver creato anche l'orologio U-Bot. Welder si distingue per un design distintivo e innovativo che combina l'aspetto robusto degli strumenti industriali con la sofisticazione degli orologi da polso. Gli orologi Welder sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, titanio e pelle, e sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili. Tra i modelli più popolari ci sono il K24, il Moody e l'Odyssey. Ma non sono solo il design e la qualità dei materiali a fare la differenza negli orologi Welder. Infatti, molti modelli presentano un movimento al quarzo giapponese di precisione e un vetro minerale antigraffio, caratteristiche che garantiscono durata e affidabilità. Inoltre, il marchio ha introdotto alcune funzionalità uniche, come il sistema di bloccaggio a doppio gancio per il cinturino e una funzione di illuminazione a LED. Gli orologi Welder sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili, perfetti per soddisfare i gusti di chiunque. Che tu sia alla ricerca di un orologio sportivo per l'uso quotidiano o di un orologio elegante da indossare nelle occasioni speciali, Welder ha il modello perfetto per te. Inoltre, l'innovazione è il punto di forza del marchio, come dimostra il sistema di bloccaggio a doppio gancio per il cinturino e la funzione di illuminazione a LED, che rendono gli orologi Welder unici nel loro genere.